In questo tutorial vediamo dei problemi riguardanti le condizioni sul prodotto delle radici di un'equazione parametrica. Partiamo da questo esempio. Devo determinare il valore di k affinché questa equazione parametrica ammetta x1 uguale 1 su x2. In altre parole, una soluzione deve essere reciproca dell'altra. Prima di rispondere a questa domanda dobbiamo garantirci che questa equazione ammette soluzioni e quindi devo imporre che il delta dell'equazione deve essere maggiore uguale a 0 e vado a scrivere b alla seconda meno 4 per a che è 3 per c che è meno 2k maggiore uguale a 0. Ottengo così una disequazione che vado a risolvere. Dopo aver sviluppato questo quadrato di binomio ed eseguita questa moltiplicazione mi rendo conto che questo trinomio non è nient'altro che 2k più 3 al quadrato, ossia ho una quantità al quadrato e mi viene chiesto quando una quantità al quadrato è maggiore o uguale a 0. Una quantità al quadrato, essendo non negativa, è sempre maggiore o uguale a 0 e allora la disequazione viene verificata per ogni k reale. In altre parole, questa equazione ammette sempre soluzioni. Vado ora a rispondere alla prima domanda, soluzioni reciproche. Questa scrittura, moltiplicando tutte e due i membri per x2, può essere riscritta in questo modo, x1 per x2 uguale 1. In altre parole mi sto chiedendo quando il prodotto delle radici è uguale a 1, ma il prodotto delle radici p è uguale a c fratto a, che deve essere uguale ad 1, e allora vado a scrivere c, ossia il termine noto dell'equazione, meno 2k fratto a, che è pari a 3, tutto quanto uguale 1. Ho così un'equazione che vado a risolvere. Moltiplico tutte e due i membri per meno 1 e poi moltiplico tutte e due i membri per 3 mezzi, ottenendo k uguale meno 3 mezzi. Vediamo ora il secondo punto. Mi viene chiesto quando il prodotto delle radici è uguale a meno 2 terzi e allora il prodotto p è uguale a c su a e devo andare a scrivere c, ossia meno 2k fratto a, che è pari a 3, uguale meno 2 terzi. Ottengo un'equazione che vado a risolvere. Semplifico i denominatori, moltiplico tutte e due i membri per meno 1, in questo modo ottengo 2k uguale 2, ed infine divido tutte e due i membri per 2, semplificando il coefficiente di k, e a conti fatti si ottiene k uguale 1. Osservo che questa soluzione e questa soluzione sono entrambe ammissibili, in quanto questa equazione ammette sempre soluzioni per qualunque valore di k reale. Determina per quale valore di k sono verificate queste condizioni in questa equazione parametrica. Come prima cosa vado a determinare il campo di esistenza delle soluzioni dell'equazione, imponendo il delta maggiore o uguale a 0, andando a scrivere b alla seconda meno 4 per a per c, che risulta essere 4k. Ottengo così una disequazione che vado a risolvere. A conti fatti otteniamo k minore o uguale di 49 trentaduesimi. Andiamo ora a risolvere il punto 1. Le radici sono reciproche, ossia x1 uguale a 1 fratto x2. Questa scrittura, moltiplicando tutte e due i membri per x2, la possiamo riscrivere come x1 per x2 uguale 1. Ottengo così che il prodotto delle radici deve essere uguale 1, ma il prodotto delle radici p è uguale a c su a, e allora devo scrivere che c su a deve essere uguale 1. E quindi c, in questo caso, vale 4k fratto a, che è pari a 2, ossia il coefficiente di x2, tutto quanto uguale 1. Ottengo così un'equazione che vado a risolvere. Dividendo poi tutte e due i membri per 2, semplificando e semplificando, si ottiene k uguale 1 mezzo. Questo valore è un valore ammissibile, in quanto risulta essere minore o uguale di 49 trentaduesimi. Passiamo ora al punto 2. Le radici sono concordi. Per rispondere alla seconda domanda, dovremo far ricorso alla regola dei segni di Cartesio. Due radici concordi sono due radici, o tutte e due positive, o tutte e due negative. Due radici positive le avremo quando l'equazione presenta due variazioni. Le radici risultano essere tutte e due negative quando l'equazione presenta due permanenze. E allora dovremo andare a studiare il segno dei coefficienti dell'equazione. E vado a porre 2 maggiore di 0, meno 7 maggiore di 0 e 4k maggiore di 0, da cui si ottiene k maggiore di 0. Questa linea rappresenta il segno del coefficiente di x quadro, 2 sempre maggiore di 0. Ecco perché ho messo tutto più. meno 7 non è mai maggiore di 0, ecco perché nella seconda linea ho messo sempre tutto meno. Ed infine, per il terzo coefficiente, si ha la positività per valori maggiori di 0 e invece risulta essere negativo per valori minori di 0. Vado ora a studiare i segni dei coefficienti. Per valori minori di 0, ossia mi trovo in questa regione, avrò il primo coefficiente positivo e il secondo negativo, e quindi da più a meno avrò una variazione. Poi, da meno a meno, ossia dal secondo al terzo coefficiente, avrò una permanenza. Andiamo ora a studiare i segni per i valori maggiori di 0. Da più a meno ottengo una variazione. Da meno a più ottengo un'altra variazione. E quindi, in questo caso, mi trovo due variazioni. Abbiamo detto che le radici sono concordi quando o si ottengono due permanenze o due variazioni. Nel primo caso, ossia per valori di k minori di 0, ho una variazione ed una permanenza. Quindi, certamente, le radici non saranno concordi. Per valori di k maggiori di 0, ottengo una variazione ed una variazione, ossia ottengo due variazioni. E allora posso concludere che per k maggiore di 0 l'equazione ammette due variazioni e quindi due soluzioni, tutte e due positive. Ancora non ho finito perché devo intersecare questo intervallo con questo intervallo. E la parte comune sarà k compreso tra 0 e 49 trentaduesimi con 49 trentaduesimi incluso. Andiamo ora a studiare il punto 3. Nel punto 3 mi viene chiesto che il prodotto delle radici sia uguale a meno 10. E allora devo scrivere c 4k fratto a, ossia 2, deve essere uguale a meno 10. Ottengo così un'equazione in k che vado a risolvere. Semplifico 4 con 2 ottenendo 2k uguale meno 10. Divido poi tutte e due i membri per 2 e vado a semplificare ottenendo k uguale meno 5. Questo valore certamente è ammissibile in quanto è minore di 49 trentaduesimi. Vediamo quest'ultimo esempio. Determina per quale valore di k sono verificate le seguenti condizioni in questa equazione parametrica. Come prima cosa vado a determinare il campo di esistenza delle soluzioni dell'equazione imponendo il delta maggiore o uguale a 0. Andando a scrivere b alla seconda, ossia meno 4 alla seconda, meno 4 per a che è k per c che è pari a 4k meno 1. Tutto quanto maggiore o uguale a 0. Ottengo così una disequazione che vado a risolvere. Dopo aver sviluppato questa potenza ed eseguita questa moltiplicazione, possiamo semplificare 16k quadro con meno 16k quadro ottenendo 4k maggiore o uguale a 0. Dividendo tutte e due membri per 4 si ottiene k maggiore o uguale a 0 e allora vuol dire che questa equazione ammette soluzioni per valori di k maggiore o uguale a 0. Andiamo ora a risolvere il primo punto. Le radici sono reciproche, ossia x1 uguale a 1 fratto x2. Questa relazione, moltiplicando tutte e due membri per x2, può essere riscritta come x1 per x2 uguale 1. In altre parole, il prodotto delle radici deve essere uguale a 1, ma il prodotto delle radici P è uguale a scrivere c fratto a e quindi c su a deve essere uguale a 1. c, in questo caso, è pari a 4k meno 1 fratto a, ossia il coefficiente di x quadro che è pari a k, tutto quanto uguale 1. Ottengo così un'equazione in k che vado a risolvere. A conti fatti si ottiene k uguale a 1 terzo, che risulta essere una soluzione ammissibile in quanto è maggiore di 0. Vediamo ora il punto 2. Mi viene chiesto quando il prodotto delle radici è pari a 9. Il prodotto delle radici lo scriviamo come c su a e allora devo scrivere c 4k meno 1 fratto a, ossia k, uguale 9. Ottengo un'equazione che vado a risolvere. A conti fatti si ottiene k uguale meno 1 quinto. Questa soluzione non può essere accettabile in quanto k deve essere sempre maggiore o uguale a 0 per garantirmi il fatto che l'equazione ammette soluzioni. E allora k uguale meno 1 quinto non può essere accettata come soluzione. Passiamo al punto 3. Le radici sono discordi. Per risolvere questo punto dovremo far ricorso alla regola dei segni di Cartesio. radici discordi vuol dire una soluzione positiva e l'altra negativa o viceversa. In relazione ai coefficienti dell'equazione dovremo ottenere una permanenza e una variazione o viceversa. E allora dobbiamo andare a studiare il segno dei coefficienti dell'equazione. E vado a porre k maggiore di 0 meno 4k maggiore di 0 e 4k meno 1 maggiore di 0 ottenendo k maggiore di 0 k minore di 0 e k maggiore di 1 quarto. Andiamo ora a rappresentare graficamente i segni di queste tre disequazioni. Per la prima k maggiore di 0 vuol dire che prima di 0 è meno e dopo di 0 è più. Per k minore di 0 vuol dire prima di 0 più e dopo è meno. Ed infine per k maggiore di 1 quarto prima di 1 quarto è meno e dopo ottengo più. Dobbiamo studiare tre casi. Quando k è minore di 0 quando k è tra 0 e 1 quarto e quando k è maggiore di 1 quarto. Andiamo a vedere il primo caso quando k è minore di 0 ossia mi trovo in questo caso. Da meno passo a più e allora vuol dire che ho una variazione. Da più passo a meno ed ho un'altra variazione. Quindi vuol dire che per k minore di 0 ottengo due variazioni. Due variazioni mi danno luogo a due soluzioni concordi esattamente due soluzioni positive e allora vuol dire che certamente questa regione non la possiamo considerare. Vediamo ora quando k è tra 0 e 1 quarto. Si passa da più a meno e quindi ho una variazione. Poi da meno a meno ed ho una permanenza. E quindi per k tra 0 e 1 quarto ho una variazione ed una permanenza. Quindi le radici saranno discordi. Vediamo infine quando k è maggiore di 1 quarto. ho più e meno quindi passando da più a meno ho una variazione e poi da meno a più ho un'altra variazione e quindi vuol dire che ho due variazioni ma due variazioni mi danno luogo a due soluzioni tutte e due positive e quindi non sono discordi. E allora le radici discordi le avremo quando k è compreso tra 0 e 1 quarto. Dobbiamo ora intersecare questo intervallo con k maggiore o uguale a 0 ma l'intersezione tra questo intervallo e questo intervallo è proprio k compreso tra 0 e 1 quarto. E con questo termino il tutorial su condizioni che riguardano il prodotto delle radici di equazioni parametriche.